Una Vicenza a misura di turismo, eventi e servizi nel segno della sicurezza. Per la prima volta in occasione del prossimo grande evento tutto berico, il grande giro della rua, che prevedrà accanto alla cerimonia religiosa una serie di concerti di portata internazionale, il cuore della città cambia prospettiva e allarga i plateatici. Al momento una sperimentazione pianificata da Comune Confcommercio. Se questo sistema funziona, lo sperimentiamo proprio in questi giorni. Se funzionerà, noi avremo sempre un secondo disposizione dei plateatici, un piano A che è quello consueto e quando ci saranno grandi eventi in centro, già un piano B per garantire a tutti di poter lavorare. Come ha dichiarato Stefano Soprano, il presidente dell'ASCOM, del centro storico, non deve esserci contrapposizione tra l'iniziativa e il commercio, anche perché lo stesso plateatico è un servizio al turista. La risposta dei commercianti, dei baristi e degli esercenti qual è stata? Molto positiva perché abbiamo cercato di metterli insieme. Quindi non discutere più individualmente il tema, ma come organizzazione. Questo ha dato la possibilità di capire l'interesse comune per tutti e una risposta molto positiva. E mai come in questi giorni, dicevamo, uno degli obiettivi principali, anche nella città di Vicenza, è quello della sicurezza. L'interesse di tutti noi è che la sicurezza sia vissuta, quindi nessuno vuole mettere difficoltà a questo. è chiaro che a nuove esigenze bisogna trovare nuove risposte.